Salve amici e bentornati sul canale, facciamo un salto in libreria. Io sono Maria Chiara e come sempre vi mando un bacione davvero grandissimo. Finalmente sono qui per girare un bel video per aggiornarvi sulle letture che sto facendo, le letture che ho terminato e letture che insomma sono in corso d'opera, quindi ci facciamo una bella chiacchierata. Prendete qualcosa di fresco da bere, io ho dimenticato di prendere qualcosa, però insomma sarà una bella chiacchierata. Io ho ancora il covid, ve l'ho detto nell'altro video e spero di essere negativa al più presto, sto meglio. Però insomma è stato, dalla voce sentita, è stato un po' fastidioso, ecco più che altro è stato fastidioso. Poi tutti quanti i positivi, comprese le bambine soprattutto, è stata una settimana abbastanza intensa e quindi noi ci occupiamo di libri che così ci passa tutto. I pensieri negativi, i pensieri pesanti, pesantezze varie ed eventuali, vanno a, diciamo che i libri vanno, almeno per me, vanno a cancellare quei momenti un po' no. Cioè non so se si vede ma lì abbiamo Ariel che fa le ninne. Ormai quella è diventata anche la sua coltroncina. Allora, io penso che vedrete un po' di confusione in libreria, non troppa perché devo dire che solo tre scaffali li ho sistemati proprio due giorni fa. Allora, partiamo subito quindi con gli aggiornamenti di lettura. Allora, sono a buon punto, non proprio a metà ma quasi a metà, disegni e uova di Mieko Kavakami. Allora, segni e uova edizione O è il libro che abbiamo, ho scelto per il nostro gruppo di lettura che si chiama Un salto in oriente. Quindi questo libro è stato scelto per essere letto nei mesi caldi, quindi luglio e agosto. Mi sta piacendo, ho messo anche il segnalibro al contrario, devo dire che mi sta piacendo. È veramente un libro, come dire, in questo periodo ci voleva una lettura così. È un po' un libro coccola perché parla, abbiamo due sorelle protagoniste, parla di queste due sorelle e una delle due si vuole rifare il seno. E una delle due sorelle, proprio quella che si vuole rifare il seno, ha una figlia preadolescente, sì, che non le parla. Scrive questa ragazza, scrive su dei fogli, su un diario e quindi ha tolto il dialogo con sua madre. Questa donna che si vuole rifare il seno incontra sua sorella proprio per parlare di questa cosa e per passare un po' di tempo con sua sorella. E tutte e tre queste donne vivono alcuni giorni insieme. Io non l'ho letto ovviamente tutto per poter dare un giudizio, un giudizio insomma di un certo tipo, posso solo dire che è una lettura piacevole, mi sta coinvolgendo, è delicato, mi fa piacere leggerlo in quanto ci sono tante descrizioni proprio del Giappone, di come si vive in Giappone, del rapporto tra queste due sorelle, soprattutto mi piace che parla delle loro difficoltà, come le hanno superate a livello economico, quindi non mi era spesso capitato di trovare queste tematiche in alcuni libri ambientati in Oriente. e quindi troviamo veramente dolore e sofferenza raccontato a 360 gradi, perché non parla solo della vita di queste due sorelle, ma si estende anche ai loro amici, conoscenti, colleghi di lavoro, a un po' la società povera, orientale del momento, insomma persone che contemporanei, ecco non mi veni al termine, i nostri contemporanei a Tokyo, come vivono la povertà, i quartieri, come sono strutturati, che lavori fanno per portare avanti la loro vita, per guadagnare qualcosa, gli stenti, insomma queste due sorelle sono povere, infatti il libro inizia proprio così, no? Quando voglio sapere se una persona è nata povera, non c'è niente di meglio che chiedere quante finestre c'erano nella casa in cui è cresciuta, non serve fare domande su ciò che mangiava e sui vestiti che indossava, per scoprire il grado di povertà è essenziale conoscere il numero delle finestre, quindi mi è piaciuto anche proprio questo incipit, questo inizio, che da qui poi narra il racconto dell'adolescenza, diciamo il preadolescenza di queste due donne e poi fa dei salti temporali ai giorni, più o meno i giorni nostri, forse è ambientato un po' prima del 2020, ora non ricordo, credo 2010 così, e devo dire che è scritto veramente bene, quindi ve lo consiglio, fate ancora in tempo ad inserirvi nel nostro gruppo Telegram e la discussione ci sarà i primi di settembre, anzi mi scuso ma tra il Covid una settimana, finalmente almeno l'abbiamo fatta, di mare non ho avuto proprio modo di poter fare una chiacchierata, una discussione sulle cronache dell'acero e del ciliegio, che è l'altro libro che abbiamo letto sempre per il gruppo di lettura, quindi appena avrò un modo farò un video dedicato proprio a quel libro lì. Lettura appena, appena terminata, ci ho messo un giorno e mezzo a leggerlo perché è piccolino ma poi si fa divorare, i nomi epiceni di Amelie Notomb, sempre casa editrice Voland. Questo cotto e mangiato mi è arrivato almeno un po' di gioia in questi giorni che ero a casa per il Covid mi è arrivato perché praticamente l'avevo ordinato su Libraccio, c'erano degli sconti pazzeschi, nuovo, sconti pazzeschi da 15 euro, l'avevo pagato 5 euro così, stavano tipo al 70, al 60, 60-70% a volte, se andate sul sito di Libraccio ci sono questi super mega sconti galattici dove i Reminders sono a questi prezzi stracciatissimi e ci sono dei titoli davvero niente male e io ho recuperato, poi vi girerò se riesco domani, farò un video book haul che uscirà o giovedì o domenica, vediamo come farlo in programmazione di questa settimana. e ci sono tanti altri libri che ho recuperato della Notomb proprio perché era nasconto. Allora, I nomi epicenni della Notomb, io penso che farò proprio un video dedicato a lei, voglio leggere più libri possibili in quest'estate della Notomb e poi magari a settembre vi farò un video dedicato. Cosa dire di questo libro? È una storia di odio, di amore ma soprattutto di vendetta, è una storia che vi lascerà anche un po' come se fosse un po' un thriller se vogliamo, vi lascerà senza parole. Il libro si apre con un uomo e una donna, la donna lascia questo uomo e poi ci ritroviamo con un uomo che corteggia una donna e da lì nasce una storia, tra molte virgolette, nasce una storia d'amore e un matrimonio che da questo matrimonio nasce una bambina, da questo matrimonio. Quindi questo nucleo familiare composto da moglie, marito e questa bambina che verrà chiamata, io lo pronuncerò malissimo, quindi abbiamo questa famiglia che è molto particolare in quanto il padre è una persona completamente fuori di testa, diciamo così. Da qui abbiamo, man mano andando avanti nella lettura, tutta la narrazione, tutto il racconto di più o meno vent'anni della storia di questo nucleo familiare, madre, padre e bambina, di come c'è un escalation, diciamo così, ad arrivare al punto che diventa quasi un tear thriller finale che vi lascerà senza parole, perché oltre a questi tre personaggi c'è un altro personaggio che non vi svelo che ha un ruolo fondamentale nella vendetta. Ecco, non voglio dire troppo perché sono talmente poche pagine che vi conviene leggerlo. Vi posso dire però le mie sensazioni. Mi è piaciuto molto il tema della vendetta, il tema della malattia mentale, perché a questo punto solamente una persona con dei seri problemi mentali farebbe una cosa del genere. Non vi svelo neanche chi è questa persona. Potrebbe essere il marito, la moglie, la figlia, non vi svelo. È veramente costruito bene. Ci fa proprio percepire, ci fa vivere, assaporare il dolore all'interno di questo piccolo nucleo familiare che si avverte. Il dolore, l'attesa, il dispiacere, il disgusto. Cioè, lei riesce proprio a farti, secondo me, provare delle vere emozioni, sensazioni. Sa narrare così bene, sa scendere così nel dettaglio, nelle descrizioni dei sentimenti dei protagonisti che riesce a farti empatizzare, ecco, molto. Io poi sono comunque di mio empatica. Leggere lei per me è top, perché riesce proprio a coinvolgermi pienamente. Mi è piaciuto molto, mi è piaciuta la costruzione appunto della storia, dell'intreccio che c'è stato, la costruzione dei personaggi. Sì, anche alcuni punti un po' carichi, però l'ho trovato comunque realistico e mi è piaciuto davvero, davvero tanto. E dietro c'è scritto La persona che ama è sempre la più forte. Mi è piaciuto tantissimo. Andiamo avanti con altri libri adesso che, no, andiamo con qualcosa che ho letto e poi andiamo con i libri che sono tutti a metà, a metà, a metà, che non ho terminato, ma insomma ci siamo. Allora, io vi mostro due fumetti. Ci sono, ci sono cascato di nuovo la canzone. Ci sono cascata anch'io, non di nuovo, ci sono cascata anch'io. Sono completamente, mi sono arresa e ho preso anch'io questa serie. Li ho tutti e quattro, perché ci sono stati. Maggio, giugno, ora non ricordo. Ero a Roma, quindi li ho presi lì. I fumetti dell'Oscar Vault, che c'è stato lo sconto del 20%, ho approfittato, ho preso diversi libri. E questi due già li ho letti. Stasera inizierò il terzo. Heartstopper. Due ragazzi si incontrano e si innamorano. È una storia d'amore omosessuale, quindi a tematica omosessuale appunto, dove abbiamo una storia delicatissima, dolcissima, i personaggi costruiti divinamente. C'è anche la serie TV Netflix, che ho smesso di vedere, ma penso stasera un'altra puntata la guarderò, ho visto solo le prime due puntate. Mi è piaciuto moltissimo. Allora, i disegni in bianco e nero, mi sono piaciuti anche i disegni, comunque le espressioni che vengono date a questi personaggi, la storia. La storia è molto, molto bella, sia il primo che il secondo. Io poi farò un video speciale dedicato ai protagonisti. Allora, questi due ragazzi sono completamente diversi tra loro. Si chiamano Charlie e Nick e frequentano la stessa scuola. Loro non si sono mai incontrati, poi però si incontrano. E nasce un'amicizia davvero forte, un legame molto bello, uno scambio di sentimenti, di sensazioni, di emozioni. Ti fa rivivere un po' anche il periodo proprio dell'adolescenza, di quando i tuoi amici sono completamente il tuo mondo, no? E quindi è descritta molto bene questa cosa. Poi da lì, questi due ragazzi scoprono l'amore. Allora, uno dei due ragazzi, Charlie, è già dichiarato, diciamo, è omosessuale, mentre Nick, spero di non aver invertito, però no, Nick, Nick invece è bisessuale, cioè lui è etero e poi scopre questa passione per il suo amico, questa tenera passione, cioè è molto romantico questo fumetto, molto tenero, e quindi si innamora di Charlie e quindi da Nick, da eterosessuale, scopre di essere appunto bisessuale, di amare sia i ragazzi che le ragazze. Spero che questa luce così sparata non vi dia noia, io sto scomoda, cerco di mettere bene la maglietta perché è lunghissima questa maglietta, non si vede, mi si incastra ovunque. Allora, andiamo avanti poi, quindi, lettura top. Andiamo avanti adesso con le letture che ho a metà e un ascolto che ce l'ho in cartaceo, ma lo sto anche ascoltando. Un libro che mi sta convincendo, mi sta piacendo, e però, devo dire, sono a metà ancora, secondo me, non sono entrata a 360 gradi nell'atmosfera. Ora, sarà che sto leggendo 6-7 libri contemporaneamente, e anche quello. Però, è come, qui, allora, mi sta piacendo, è scritto bene, Mexican Gothic, ecco, non l'ho detto, di Silvia Moreno Garzia. È un gotico, è letteratura, diciamo, un pochino da brivido, effettivamente, qualche brivido lo dà. Abbiamo la storia di due cugine, una cugina si è sposata e è andata via, ambientato, appunto, in Messico. Sì, Noemi, Tabuata, è la protagonista, e la cugina è Catalina. Catalina si sposa e va a vivere in questa magnifica, gigantesca, ma tetra, casa, lontano dal paese dove viveva con la cugina, Catalina, e sua cugina, che è la ragazza dell'immagine, della foto, Noemi, Noemi, dopo aver ricevuto la lettera straziante della cugina che chiede aiuto, spinta da suo padre, Noemi, parte e va a vedere che situazione troverà in questa famiglia, in questa casa, dove risiede questa cugina che si è da poco sposata, Catalina. Troverà Catalina effettivamente sofferente, dicono il marito di Catalina e il resto delle persone che vivono lì, quindi la suocera, il cognato, insomma, le altre persone che vivono lì, diranno tutti che Catalina ha la tubercolosi se non ricordo male, ma pian piano la nostra Noemi indagherà e capirà che non è tubercolosi perché è qualcosa di più tetro, di più spaventoso, quindi abbiamo delle atmosfere molto gotiche, cimiteri, nebbia, casa che fa paura, a me sta piacendo molto, sicuramente un libro che probabilmente l'avrei dovuto leggere a settembre-ottobre ma non ho proprio resistito e mi sta piacendo solo che ripeto sono a metà però ancora è come se non accade nulla di così forte ancora probabilmente nella seconda parte del libro ci sarà la ciccia ecco per ora è tutto un po' così evocativo così in punta di piedi ecco stiamo entrando in punta di piedi in questa storia proprio il momento a me dal libro ancora non c'è la ciccia che dici ok ce l'ho ho capito il problema in questa famiglia il problema della casa ancora non si è capito bene perché Catalina la protagonista non sta bene perché questa famiglia è così tetra così chiusa Noè mi sta indagando e noi con lei mi piace da morire anche l'altra copertina che io trovo ancora più bella onestamente ecco qua è caduto il libro vabbè guardate che bella io la trovo stupenda questa copertina e ora vediamo un po' insomma andando avanti se se ci sarà la ciccia che aspetto comunque per il momento è una lettura sicuramente d'evasione è un libro io credo comprerò un'altra copia perché l'ho distrutto probabilmente lo venderò e ne comprerò un'altra copia l'ho leggermente distrutto appena appena e mi sta coinvolgendo poi alla fine della lettura ne parlerò in maniera più approfondita un altro libro che è in lettura e l'ho quasi terminato quindi diciamo che ne sto leggendo parecchio e sono soddisfatta quasi terminato è questa meraviglia qua questo è proprio libro coccola ma anche un libro guida perché perché il mio sogno se lo sapete è quello di aprire questa benedetta santissima libreria lo farò prima o poi Ariel che ne dici apriremo la libreria tu con me ok Ariel mi aiuterà in libreria la metterò alla cassa e questo libro cioè è delizioso se anche voi come me avete come sogno desiderio di aprire una libreria il coraggio che ha avuto lei cioè aperto questa libreria appunto in un paesino nel 2019 a Lucignana poche case sull'appennino lucchese io credo che andrò quasi sicuramente anche perché voglio rivedere Lucca quindi penso che andrò anche perché post covid post tutto magari qualche giorno di relax ce lo meritiamo anche spero di farlo di andare magari due giorni a Lucca e visitare a Lucignana vicino sull'appennino lucchese questa libreria la libreria sulla collina Alba Donati Alba Donati fa una sorta di diario perché questo è ogni giorno lei a partire dal vediamo che giorno perché io poi le date dal 20 gennaio lei inizia quindi prima del covid lei inizia a raccontare la sua apertura di questa piccolissima ma deliziosa libreria in un posto piccolissimo lei però è riuscita con la volontà con la sua cultura perché è una persona che non è che ha aperto la libreria così dall'oggi al domani lei comunque lavorava nell'ambito editoriale lavorava a livelli alti in editoria e quindi lei era più che competente per poter aprire una libreria ha deciso di tornare nel paese dei genitori se non ricordo male e questo piccolissimo borgo lei ha aperto la libreria ma poi accadranno delle cose spiacevoli che però faranno ancora più capire ad Alba Donati che ha fatto strabene a fare questo salto nel vuoto quindi è un libro che vi consiglio perché è un libro popola è un libro verità perché è una storia vera quindi diciamo più che un romanzo è una sorta di memoir di real di realtà insomma un libro vero e niente ve lo consiglio perché è scritto bene poi la cosa che più mi piace è che alla fine di ogni capitolino lei sotto mette ordini del giorno ordini di oggi ordini del giorno quindi lei ci dà questo consiglio questo regalo che è quello di andarci a spulciare giorno per giorno a leggere e che cosa ordinano in questa libreria quindi meraviglioso perché io mi sono segnata qualche titolo ho sottolineato qualche titolo interessante lo sono andato poi a cercare e quindi lei ti dà tutti i libri che vengono ordinati da lei giorno per giorno carinissimo è una lettura delicata fa caldo è una lettura delicata magnetica perché comunque tu vuoi capire come mai lei ha voluto aprire questa libreria perché che cosa l'ha spinta la sua forza di volontà tutte le persone che attraverso la libreria conoscerà bello veramente bello un altro libro che questo è proprio a livelli altissimi perché scritto no bene di più forse meritava lo strega parliamo di stradario aggiornato di tutti i miei baci questo è l'unico no ho letto anche candidata lo strega ho letto anche la Raimo niente di vero della Raimo però secondo me per lo strega lei l'avrebbe l'avrebbe dovuto vincere perché è veramente una scrittura così allora io lo sto leggendo piano 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 me lo sto gustando un po' perché mi dispiace di finirlo presto un po' perché ho sottolineato parecchie cosine un po' perché me lo voglio gustare piano piano per poi magari tornarci su tornare a rileggere alcune cose non è semplice non è una lettura per tutti non è una lettura semplice ho sentito tanti che l'hanno subito abbandonato ci devi un attimo non dico fare pace con l'autrice e dire ok lei è fatta così scrive così cerchiamo di entrare nella sua ottica e cerchiamo di capire quanta cultura ha questa cristiana che quindi le viene proprio spontaneo secondo me lei è talmente colta che scrivere così parlare così per lei è naturale ecco per lei non è però mi rendo conto che diversi termini la terminologia che utilizza non è alla portata di tutti cioè non è che tutti parliamo come lei assolutamente e quindi anch'io mi ritrovo che qualche parola me la sottolineo ma la vado a ricercare e che dico oddio che ha detto che vuol dire quindi capisco che è una lettura fluida perché anche questa è una sorta di diario cioè lei racconta stradario a giornale tutti i miei baci racconta un po' i suoi amori le sue paure racconta ad esempio il rapporto di odio che ha con i medici con i dottori per tutta la sfera così racconta il suo rapporto d'amore anche col gatto col suo gatto racconta gli incontri d'amore che fa incontri scontri il perché finiscono delle determinate storie e poi descrive una certa tipologia di persone che frequenta una certa cerchia di persone che frequenta e sa descrivere bene determinati ambienti e sì è un libro che secondo me va letto con digerendolo piano 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 va digerito piano piano non è secondo me poi dipende dalla persona ci sono booktubers che l'hanno divorato in 3-4 giorni io mi conosco una lettura del genere la devo un po' comprendere rileggere cioè io me lo sto gustando così piano piano mi sta piacendo penso che mi farà compagnia fino a settembre inoltrato ma non mi interessa per me l'importante è terminarlo finirlo e farvi un bel video in merito è una scrittura che coinvolge stravolge perché veramente lei è pazzesca poi tante tante citazioni lei è una cultura sfrenata su su tutto insomma e quindi ecco io non mi sento ad esempio questo lo consiglio come lettura leggera un po' a tutti questo non è un libro che consiglio a tutti perché sono certa che come mi è capitato di consigliarlo a due mie amiche Chiara ma che mi hai consigliato ho letto 20 pagine l'ho chiuso l'ho venduto quindi non mi sento cioè due persone l'ho consigliato e l'hanno accantonato quindi dopo questo ci ho riflettuto ho detto no non è un libro posso consigliare a tutti così in maniera tranquilla quindi non so magari prendetelo in biblioteca fatevelo prestare vedete se può essere nelle vostre corde io so che è nelle mie corde che mi sta piacendo ma ripeto vado piano 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 tanto non ci corre dietro nessuno un libro invece che questo lo voglio leggere ta 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 perché è proprio una lettura che si divora è una lettura da ombrellone io dico Joel Dicker anche se ci vuole un bel cervello per fare tutti gli incastri del mondo che lui solo lui sa fare e in questo libro ci sono vari riferimenti anche i libri precedenti quindi se non avete letto nulla dell'autore anche una mia amica che saluto lo sta leggendo ciao Lara so che lo sta leggendo faremo una bella chiacchierata insieme in merito lei sta partendo da questo e comunque lei va tranquilla anche se non ha letto gli altri però io consiglio di leggere gli altri libri perché comunque ci sono tanti riferimenti forse qualche piccolo spoiler agli altri libri agli altri omicidi eccetera che magari ti bruci la bellezza degli altri libri precedenti questo parliamo del caso di Alaska Sanders capisco che è un libro commerciale cioè non c'è proprio paragone tra i due questo è un libro molto commerciale molto venduto molto chiacchierato è un libro da ombrellone io però adoro anche questo tipo di letture questo tipo di letture sono quelle letture che faccio per staccare la mente non ci ritorno su non sono libri che riprendo per rileggere sono thriller che infatti io vorrei vendere un po' di libri tra cui tanti thriller che magari non ho amato o che stanno qui a occupare posto quindi un po' di libri li ho messi già in vendita su Telegram quindi ho messo un po' di foto per cui se ti è interessato può andare a riguardare quelle foto che sono in vendita e poi devo vendere anche altri libri quindi anche ecco questi di Tigger non li venderò perché so che magari non li leggerò però magari a distanza di 3, 5, 10 anni dici beh vabbè non me lo ricordo magari ti va di leggere un buon libro un buon thriller e questi sono veramente dei thriller fatti bene quindi se cercate credo che girerò anche un video sui libri da ombrellone ogni anno giro una tipologia del genere libri da spiaggia da ombrellone da vacanza libri da da vacanza e questo fa il caso vostro se cercate una cosa comunque leggera a me sta piacendo molto e ripeto lo leggo la sera o quando sono stanca magari dopo cena è mezzanotte magari non dormo fa caldo ok di certo non mi metto a leggere lo stradario perché non ci sto tanto con la testa magari questo lo leggo in orario lo so più lucida e è difficile ma soprattutto questa settimana lucidità zero diciamo però vabbè e questo lo leggo magari in orari dove vado altro libro che è un thriller che sto ascoltando ma che voglio prendere il punto e prendere e leggerlo in cartaceo però l'ascolto mi sta piacendo perché ho letto bene sempre su audible è stato molto chiacchierato perché è scomparsa lo scorso anno l'autrice Lucinda Riley lei che ha scritto la saga delle sette sorelle questo video è lunghissimo avete preso qualcosa da bere io ho sede quindi finito devo andare a bere assolutamente giunti editore delitti a flit house delitti a flit house è un bel ma l'oppone un bel trailer estivo anche questo da spiaggia rilassante carino cioè devo dire non è male mi sta coinvolgendo ho letto cento pagine non di più però devo dire è carino ambientato in Inghilterra siamo in un college io tutti i libri ambientati nei college lo sapete impazzisco quindi mi piacciono molto e quindi abbiamo un omicidio di un ragazzo che viene scambiato per una sorta di errore non proprio suicidio è come se lui ha ha sbagliato a prendere dei medicinali e muore questo ragazzo e poi però morirà un altro ragazzo e quindi qua cominciano ad esserci più omicidi all'interno della stesso college e abbiamo una detective una poliziotta una detective che aveva lasciato per motivi personali il suo lavoro viene richiamata all'ordine al lavoro perché lei è competente e tutto e lei si rituffa indagando su appunto gli omicidi che ci sono stati appunto a Fitaus ho letto poco quindi non posso dirvi troppo però posso dirvi se volete una lettura leggera poi se conoscete la penna di Lucinda Rilley lei scrive molto bene ti fa entrare proprio nelle sue storie anche qui è un libro coccola cioè comunque lei è brava brava a fare queste descrizioni anche dei luoghi non solo dei personaggi anche dei luoghi mi piace molto e per cui ecco libri leggeri ne abbiamo libri più impegnativi anche spero di non aver dimenticato nulla ma sicuro sto leggendo anche qualcos'altro che mi sono dimenticata comunque queste sono le mie letture fatte e letture in corso io non ho più voce vado a bere qualcosa di fresco e vi mando un grandissimo bacio ci vediamo prestissimo questi giorni perché girerò il video book haul quindi rimanete qui nei paraggi a seguirmi lasciatemi sotto nei commenti cosa pensate appunto di queste letture se le avete fatte se vi ispira qualche libro che nella possibilità lo sapete vi rispondo sempre vi mando un bacio davvero gigante e ci vediamo prestissimo per un nuovo video grazie a tutti